Colpo di scena uomini e donne Maria De Filippi svela una verità sul dietro le quinte ma soprattutto su Tina Cipollari Pochi giorni dallo stop per la sosta natalizia Maria ha svelato un retroscena su Tina e sul dietro le quinte La padrona infatti di casa ha ribadito ancora una volta che Tina non segue assolutamente nessun tipo di copione L'opinionista dice Maria non viene assolutamente indirizzata dagli autori ma lei non ha un copione per quello che dice dichiara Maria Ma soprattutto precisa che Tina è assolutamente uno spirito libero e può dire fare tutto quello che vuole in studio pur dovendo però restare nei limiti del consentito E infatti Maria dichiara così prima di entrare in studio dico a Tina di non esagerare con i toni perché poi dobbiamo tagliare così non rientriamo nei tempi Spesso ha funzionato molto spesso no ha rivelato proprio la padrona di casa confermando così che in alcuni casi sono stati costretti a dover tagliare troppe scene Tuttavia nell'ultimo periodo la De Filippi sembra aver trovato la stratagemma giusto per evitare tagli Abbassare infatti il microfono a Tina e in tal modo togliere qualche parola quando si altera un po' troppo in studio In modo da non tagliare troppo e di non avere problemi nel mandare magari una registrazione due volte Questo è quello che Maria dice e svela di Tina E tu che cosa ne pensi? Lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale Ciao e alla prossima!